andiamo su youtube dai girettino che io ti seguo di lì ostino i sassi sei sicuro dai proviamo che io ti seguo no non andare dentro nell'acqua che lì è anche alta eh prima fai un pezzettino lì sui sassetti dopo torniamo indietro fai un giro la nell'acqua quella la bassa bassa fai il girettino poi torniamo su di qua però eh dai che io ti seguo ti sto riprendendo il più piccolino dei leoni dai forza 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 dai andiamo fino di là dai va bene arrivo arrivo dai forza e coraggio forza e coraggio vai che un po' scivola così e ora dove passiamo però quello di lì e poi attraversi dai però bene non mette giù i piedi nell'acqua eh tre dai dai che ce la fai tanto arriva anche il papà dai 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 passa di qua che ci passi dai passa di lì vai bravo grande adesso falla diritto un pezzettino poi attraversa lì vai dal papà senza fermarti però eh non ti fermare eh dai giù dai traversa adesso dentro bene dentro bene dai una bella spruzzata taglia la diritta diritta via così bravo prifetta taglia di